buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti è scattata un'ora solare molto speciale oggi molto speciale perché come voi sapete noi raccontiamo narriamo facciamo raccontare ascoltiamo storie che rappresentino lo spicchio di luce nella vita di tutti i giorni e poi ci sono quei giorni in cui finalmente riesce a mettere un punto perché devi aspettare le persone care le persone che sono molto impegnate le persone che non assolutamente per mancanza di volontà ma per mancanza di tempo fino a quel momento non sono riuscita ad entrare in questo studio però io oggi sono commossa grata e felicissima perché rita dalla chiesa è nostra ospite grazie rita grazie 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 proprio guarda la felicità allora rita rita che è una strepitosa signora di quei signori si nasce però signora signora ecco la s minuscola e poi è una ragazza indomita che non che niente e nessuno può affermare che ha scritto questo libro che mi permetto di dire dovete leggere edito da mondadori mi salvo da sola e quando dico dovete e non sono certamente io ad imporre vi garantisco che questo libro parte con la prima parola e poi è un fiume in piena perché perché questo libro ma non lo so perché in realtà perché per tanto tempo mi avevano chiesto no di scrivere e io non avevo mai voluto scrivere perché dicevo a chi interessa la mia vita poi quest'estate mi sono ritrovata in puglia sotto il sole della puglia con questo mare davanti pazzesco e davanti a me avevo le teste vicine di mia figlia e mio nipote e allora a un certo punto guardandoli io ero seduta dietro sotto il volato loro erano davanti al mare e io ho tirato fuori il mio computerino che ho sempre con me ho cominciato a scrivere e lì dalla prima parola poi non mi sono più fermata nel senso che in tre mesi ho scritto tutto evidentemente avevo veramente anche bisogno di tirare fuori tante cose dedichi questo libro alle onde della mia vita a scrivi che mi hanno sempre aiutata a ritornare arriva se si torna arriva come 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 un naufragono riesce a salvarti perché tre volte esatto perché le onde io amo il mare moltissimo e quindi tutta la mia vita è stata sempre all'insegna anche metaforicamente del mare e le onde per me sono quei momenti o quelle persone che mi hanno fatta traghettare un'altra volta verso riva rita tu sei tu sei tante tante cose insieme sei una donna la quale si vuol bene assoluto sei una grande professionista grazie grazie partiamo da questo grazie paola e poi tu sei tu sei la figlia di tuo papà e c'è una forma di adozione da parte di un'italia profondamente per bene che è scattata quel giorno e che non finirà mai e tu hai la forza guarda credimi rita di di raccontare con 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 la tua capacità giornalistica e con la e con la limpidezza di una persona che non ha paura di niente sicuramente no beh sì molti pensano che sia in realtà un libro sul mio padre non è un libro sul mio padre è un libro che parte da quella sera per poi snodarsi attraverso tutti questi anni sono passati ormai 37 anni da quando papà non c'è più da quando papà emanuela purtroppo sono stati uccisi sicuramente quello è stato il diciamo così lo spartiacque della mia vita niente più stato come come prima però in molti momenti è stato anche meglio di prima perché quando tu hai la consapevolezza di un dolore violentissimo che sei costretta a vivere a fronteggiare a subire e a confrontarti anche con delle realtà che alle quali prima non avevi mai pensato poi dopo tutto quello che vivi anche le piccole cose ma tutte le cose belle che ti capitano tutte le mani tese che ti vengono e tu tu lì ecco allora avverti anche un senso di serenità magari che non pensavi di poter più trovare ti abbiamo visto e qui ti vediamo con si vedo papà con mia sorella e quello è il giorno della comunione di 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 giulia lì sotto c'è il figlio vicino a me c'è il figlio di simona giuseppe e oggi sono tutti grandi tutti sposati tutti però quello era un momento per noi di di gioia grandissima perché comunque avevamo nostro padre perché comunque non avevamo ancora vissuto la violenza di quello c'è un piccolo capitolo per piccolo intendo dire piccolo le pagine pesano come come il granito quando riportate papà a parma assi accanto a vostra mamma sì perché c'è stato un legame d'amore fra fra i due si sono amati in modo folle perché si sono conosciuti questa è la mia mamma che era bellissima e si sono conosciuti che leve a 15 anni e lui 18 quindi hanno superato insieme la guerra hanno superato insieme tante cose no e mamma se n'è andata purtroppo a 5 a soli 52 anni da un momento all'altro con un infarto fulminante e l'abbiamo portata a parma ovviamente parma era città di mio padre dei miei nonni paterni quindi l'abbiamo l'abbiamo abbiamo dato l'ultima l'ultimo saluto lì e quindi quando poi anche papà ed emanuela sono se ne sono andati papà l'abbiamo dovuto portare a parma perché era giusto che ci fosse certo emanuela io per un momento mi ero posta il problema ma ti giuro paola veramente un secondo mi ero posta il problema se fosse giusto che emanuela parma e andasse anche lei nella nostra tomba di famiglia vicino a mia mamma e poi mi sono detta che lei aveva comunque anche se era stata moglie di mio padre per soli cento giorni però era giusto che lei avevano condiviso il momento del di quell'attimo di follia di omicida era giusto che ci fosse anche lei quindi c'è anche emanuela parma tu sei una bella persona rita no non ci vuole perché sai sono piena di contraddizioni ma guarda io quando io dico questo sono lungi mille miglia dal dal voler mettere una cornice da ora capito lo so io ti metto una cornice d'oro ci conosciamo da una vita d'oro massiccio altro che dorata allora mi fermo mi fermo ma solo per un attimo mi fermo solo per un attimo perché perché lei è proprio qui e io sono tanto contenta ci vediamo tra un istante con rita dalla chiesa la nostra rita dalla chiesa adesso qualcuno che si agiterà dice rita dalla nostra perché tu sei nostra comunque televisivamente radiofonicamente sei nostra rita tu sei un sei un pezzo bellissimo della nostra bandiera nazionale questa è la verità mi salvo da sola edito da mondadori e mi dice l'autrice di questo libro è un libro che piace tanto alle donne sì sì perché se lo stanno cioè c'è un passaparola no su questo libro nel senso che molte donne si riconoscono nelle battaglie che che poi ho fatto io nella vita nelle batoste che che ho preso nei momenti anche di paura di paura di cade amore questa è giulia giulia ora di cadere nella 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 depressione perché tutte noi quando abbiamo dei momenti di crisi profonda e poi tendiamo a chiuderci no non c'è un passaggio in cui io dico non avevo più voglia di di alzarmi dal letto dove voglia di neanche di sollevare le persiane di di prendere il caffè ecco o di dire a un'amica usciamo e poi dentro di me però dicevo sei una stupida se pensi una cosa di questo genere pensa le persone che vorrebbero poterlo fare e non lo possono più fare oppure le persone che stanno combattendo delle battaglie pesanti reali forti e e quindi niente e quindi uscivo brava rita e quindi cercavo di 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 pensando al dolore degli altri il tuo ti sembra molto meno anche se molto forte e invece rita c'è tanta gente che dice a me del dolore degli altri non importa proprio sì lo me lo sono sentito dire però io guardo il mio di dolore ed è sbagliato è sbagliato è sbagliato perché se siamo in una comunità cristiana in una comunità di 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 persone che si dovrebbero guardare negli altri negli altri negli occhi e riconoscersi riconoscersi come come amici come fratelli come sorelle come tutto mi dispiace l'abbraccio è corale e tu devi 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 attraverso il dolore degli altri trovare la forza di superare il tuo credo è un bacio era un bacio lanciato a rita rita e rita e giulia e giulia vuol dire lorenzo e si erano qua sono quelle le due testoline vicine no che si guardano al mare e giulia giulia che è impressionantemente identica a te e quindi quando me lo dicono in molti che abbiamo vediamo insieme un attimo chi delle due ma io stessa quando vedo delle foto dentro casa di continuo ero io giovane o è giulia e giulia quindi devo mettere gli occhiali perché non vedo niente dico no va bene allora o ero io oppure è giulia questa figlia che tu tuteli e proteggi ancor di più se la figlia la quale oggi tocca anche il testimone di di forza che tu le passi perché ma è forte di suo giulia giulia ha perso il marito un anno e mezzo fa era un ragazzo massimo era era una persona veramente per bene veramente simpatico e io ci andavo molto d'accordo per il nostro momento della chiacchiera no del anche dell'aperitivo dai rita scendi ho preso ho preso un vino bianco che ti può piacere col pezzetto di parmigiano insomma era una persona con la quale condividere tante cose e purtroppo la vita meraviglioso la vita non è stata non è stata buona con massimo e quindi non è stata buona né con giulia ma soprattutto con lorenzo che adorava suo padre e si sta trovando a vivere senza il papà quindi non sono soltanto nonna devo cercare di andare a tappare anche dei vuoti degli spazi adesso sono qui da te lorenzo è a casa da me gli ho detto vuoi venire lollo con me vuoi seguirmi no 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 e lui rimane con le sue cose con i suoi libri c'ha 11 anni quasi 12 e io ogni tanto lo guardo e se gli vedo l'occhio assente io penso sempre dico ecco sta pensando al papà però lui ne parla continuamente del papà e questa è una grande ed è molto importante perché lui ne parla lui ricorda le cose belle ne ride lo prende in giro ancora oggi quindi significa che si rende conto dell'assenza ma è molto presente dentro di lui ma questo capolavoro lo stai facendo tu perché no beh giulia tu e giulia giulia tu e giulia perché io con immenso rispetto chiamo rita il generale dalla chiesa perché rita è il generale per sé per i suoi amici per sua figlia per suo nipote mi permetto è l'ho detto con molto rispetto figurati se non lo dico io mettendomi sono attenti nel tuo libro è ultima ultima cosa della quale parliamo ma proprio perché non è l'ultima tu parli con con quell'amore fatto di rispetto per lui e per la sua famiglia vale a dire fabrizio fabrizio frizzi e carlotta e stella perché tu sei riuscita e riesci ad essere qui vediamo questa è una foto è la foto che ci hanno fatto quando facevamo la posta del cuore ed è stata fatta alla dear che mi piace chiamare oggi studi fabrizio frizzi e con i fotografi davanti noi dovevamo fare la trasmissione insieme dicevano sti due litigheranno la trasmissione riusciranno a portarla a te noi ci siamo divertiti come pazzi tra l'altro avevo chiesto anche a fabrizio perché è lui che mi ha voluto nella trasmissione quindi tu poi lo sai e ho chiesto a fabrizio ma carlotta è d'accordo nel senso che carlotta e lui mi ha detto certo perché si era cre si è creato fra tutti e continua esserci esatto anche adesso lo sentite anche ieri continua esserci un rapporto di 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 grande stima di grande affetto e di grande rispetto lei per me e io per lei lo so bene anche questo ma quando dico lo so non intendo no no lo sai proprio utilizzare usare il fatto che io le conosca lo so e questa è la cosa più bella allora leggetelo questo libro perché è una è un formidabile veicolo per conoscere meglio qualora ce ne fosse bisogno questa ragazza dagli occhi azzurri anche per 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 trovare coraggio in tutte le piccole grandi cose della nostra vita ma ci sono generali che guardano il combattimento da cima della collina e vedono l'esercito giù e ci sono generali che sguainano la spada se non lo sai tu e combattono al fianco del proprio esercito tu sei generale della chiesa no 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 grazie grazie a te no 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 poco mi importa poco mi importa lo volevo dire e l'ho detto e l'ho detto grazie a Rita della chiesa grazie grazie a voi